Quest'anno riparte il mondo dell'università, mancano pochissimi giorni e finalmente si ritorna a garantire le lezioni in presenza. Ha dei vantaggi, penso che sia un ritorno quasi alla normalità che aspettavate da molto. Sì, sicuramente in presenza è molto più stimolante fare le lezioni, comunque anche i compagni, il clima è completamente diverso e insomma siamo contenti di tornare in presenza finalmente. Qualcuno ha detto comunque che gli strumenti usati durante la pandemia si sono comunque rivelati utili e potrebbero essere usati in futuro, concordate? Sì, anche perché ci sono molti ragazzi che comunque lavorano mentre studiano all'università, quindi sicuramente per chi lavora è un vantaggio perché possono recuperare le lezioni senza perdere comunque l'opportunità lavorativa. Allora sì, diciamo che è un ritorno alla normalità che ci voleva, diciamo. Certo che però le lezioni online per certi versi erano comodi anche e soprattutto per chi magari è fuori sede, come ad esempio io vengo da Venezia qui all'università di Rovigo. Ecco che seguire la lezione online mi avrebbe agevolato soprattutto un fatto di costi per quanto riguarda lo spostamento con il treno o appunto con la macchina a livello di benzina, con questo innalzamento dei costi e logicamente sostenere il costo dell'università al giorno d'oggi è abbastanza difficile, soprattutto appunto per anche una persona come me che faccio più di qualche lavoro per comunque mantenere gli studi e quindi questo mi avrebbe agevolato, però il ritorno in presenza sicuramente un ritorno alla normalità ci voleva. Sì, molto emozionati soprattutto perché dopo due anni di lezione unicamente online finalmente torniamo ad avere un confronto diretto con i professori, con anche i colleghi universitari e insomma si torna un po' a vivere tutta quella che è l'atmosfera degli studi dell'università. C'erano state difficoltà in questa didattica un po' a distanza o non avete avuto problemi? Allora i problemi sono stati numerosi, prima di tutto la mancanza di mezzi per molti studenti ma anche per molti professori che hanno portato delle difficoltà nel seguire le lezioni e anche proprio è venuto a mancare tutto quello che è il contatto con i colleghi, con anche semplicemente tutti i servizi che l'università offreva. Sì, siamo molto contenti soprattutto perché c'è proprio voglia di viversi il clima universitario e quindi di conoscere i compagni e soprattutto di avere un confronto diretto anche con il professore per cui sì, è molto bello tornare finalmente. Si daranno anche gli esami in presenza quindi penso che sia fondamentale. Sì, la maggior parte degli esami comunque si tengono in presenza, logico che sempre per questioni legate alla pandemia in casi eccezionali probabilmente si terrà qualche esame online ma comunque dalla pandemia si possono trarre i vantaggi quali lo sviluppo anche a livello didattico delle nuove tecnologie per cui sì, sarà un anno molto bello, si prospetta un bell'anno. Grazie. 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 Grazie.